Ciao a tutti e a tutti, sono molto contenta di essere qua, quindi ringrazio anche le organizzatrici e gli organizzatori e sono anche stata molto contenta di ascoltare queste due interviste. Brevemente, magari perché è anche importante situarsi, diciamo la questione, il mio incontro con la colonia, se vogliamo che detta così, nel senso ovviamente non in quanto colonizzata, ma con l'esperienza, con le pratiche di decolonizzazione, con il pensare dal punto di vista della colonia, è qualcosa che io sito, diciamo, nelle mie esperienze di ricerca e di militanza, se si vuole dire in qualche modo, che ho avuto sia nei contesti dell'America centrale che durante alcune mie ricerche in Senegal e in Kenya. Per me è stato un incontro molto forte dal punto di vista della formazione intellettuale, se si vuole dire così, ma anche politica, perché il punto di vista della colonia cambia radicalmente il punto di vista sull'economia politica, che era comunque il punto da cui io provenivo nelle mie esperienze qui, nelle mie formazioni, nella mia formazione. E l'ha cambiato per me anche in maniera particolare nel momento in cui io, i tipi di lotte con cui mi sono confrontata in quei contesti, erano lotte che vengono dette socio-ecologiche, nel senso lotte contro progetti estrattivi, contro l'agroindustria, quindi lotte che avevano a che fare con le modalità di sfruttamento, estrazione e messa in circolazione delle risorse. Forse rallento ancora un po', scusate se vado veloce. Quindi, quello che è il pensiero decoloniale che in qualche modo, a mio parere, si articola anche molto con l'approccio, con il pensiero femminista, è il fatto di andare a leggere la dinamica capitalista come una dinamica che mette al centro un processo di valorizzazione, di valutazione, che si accompagna sempre per forza di una dinamica di svalutazione. Quella che un po' Jason Moore chiama anche, a un certo punto, l'idea del chips, di rendere le cose chips, ma che in realtà ha dei meccanismi molto più violenti come quello che appunto Felipe ci illustra e che tra l'altro sono molto interessanti da andare a leggere in maniera articolata perché è vero che la storia della colonia è stata una storia di epidemie, di distruzione attraverso anche il contagio di queste popolazioni, ma lo è stato anche la storia della post-colonia. Leggevo poco ieri, tra l'altro, un articolo scritto da Silvia Romio, che è una ricercatrice che lavora nella Mazzonia peruviana e lei appunto faceva notare come la distruzione tramite contagio è qualcosa che accompagna anche tutto il processo di costruzione delle grandi opere, gli gasdotti, gli oleodotti, le grandi linee di trasporto delle merci che si sono sempre accompagnate da forme di distruzione sia sanitaria sia ecologica che hanno altamente danneggiato le popolazioni indigene senza mai accompagnarsi da una forma di loro integrazione nel contesto della salute pubblica. E al contempo, perché questo è un meccanismo centrale dei processi di svalutazione, mentre ciò avveniva nel cosiddetto mondo occidentale, la scienza medica poteva progredire grazie all'espropriazione di quei saperi, alla privatizzazione magari di molte piante che sono state addomesticate, forse addomesticate non è una buona parola, ma che diciamo si sono coevolute con l'evolversi di quelle economie e di quelle forme di socialità. Quindi i processi di svalutazione sono veramente dei processi centrali all'interno della dinamica di valorizzazione. E l'altro elemento che lo sguardo della colonia illumina è il fatto che lo stesso processo di valorizzazione, e questo lo scriveva anche Salvo quando diceva c'è sempre un elemento di morte nella dinamica di accumulazione, comunque lo stesso processo di valorizzazione implica un approccio strumentale all'altro, un approccio strumentale al vivente, e una dinamica di astrazione che non è semplicemente la classica astrazione, insomma i marxisti parlavano, no? La riduzione della forza del lavoro al tempo di lavoro, ma in realtà sono forme di astrazione anche molto più complesse che oggi passano per esempio per i calcoli, per l'aritmetica che si lega ai calcoli della finanza, piuttosto che alla riduzione di tutta una serie di processi viventi al calcolo computazionale, ma comunque è un uso strumentale dell'esistenza umana. E nel dire uso strumentale mi viene in mente la frase di Achille Bembe, che è stato citato più volte, in cui a un certo punto mi sembra che Filippi dice no, non si lascia morire, ma si fa morire. Però io mi ricordo che c'è un momento che a me va molto colpito di un passaggio in cui parla della necropolitica, in cui lui dice l'uso strumentale dell'esistenza, in quel caso umana, perché lui si riferisce alla strumentalizzazione del lavoro umano, almeno insomma io lo leggo così, si accompagna sempre della distruzione materiale della popolazione e dei corpi, quindi la materialità si dà anche in quel contesto. e ieri c'è stato anche un intervento, lo facevi, tu lo vedo qua in prima fila, molto bello, in cui diceva, a me ha fatto molto riflettere, in cui si diceva la maniera in cui la colonialità e il patriarcato ci disciplinano è una forma di disciplinamento del nostro corpo e delle nostre menti alla morte in qualche caso. e questo secondo me è un elemento importante perché cerco di arrivare appunto a quello che mi chiedevi tu di riportare un po' a casa, senza farlo però in maniera estrattivista, senza prendere lì per riportare qua, perché questo succede spesso, soprattutto in accademia, è questa idea del fatto che l'elemento della necropolitica o in qualche modo questi elementi della colonialità sono degli elementi centrali nella maniera in cui la crisi ecologica si sta rivelando, si sta manifestando, ma sta anche essendo utilizzata come un campo per continuare, per spingere le dinamiche di accumulazione. I processi di svalutazione prendono tutta una serie di forme e una centrale secondo me è anche quella della relazione su cui non mi dilungherò però, della maniera in cui non si può capire, non si possono capire certe forme di economia verde, di green economy, di bioeconomia, quindi certe forme di speculazione, di integrazione sulla vita senza andare a leggere la relazione che queste hanno con la finanza e con il debito. Tenendo conto che l'economia del debito, la maniera in cui il debito si è socializzato, e questo ce lo insegna Melinda Cooper, ma non mi voglio dilungare, è intrinsecamente legato, è giusto per provare a tracciare i fili, poi arrivo un po' più al... però la maniera in cui il debito si socializza non può essere slegata dalla femminilizzazione del lavoro e soprattutto del lavoro femminile migrante, nel senso che tu hai... c'è un filo che lega il fatto che tutta una serie di... in particolare questo è la maniera in cui l'economia post-crise del 2007 si riarticola negli Stati Uniti, se tutta una serie di risorse pubbliche vengono indirizzate verso quella che è la speculazione tecno-scientifica, in particolare la speculazione tecno-scientifica basata sul bios, sul vivente, questo si lega ad una politica di organizzazione del debito e a una distruzione sistematica del welfare che diventa sostenibile soltanto perché grava il peso di quello che possiamo chiamare lavoro di merda, no? Come vi è stato chiamato... e che ha un lavoro soprattutto femminile ed ha un lavoro soprattutto migrante. Non lo so se sono stata troppo dispersiva, ma era giusto per far vedere come il pensiero coloniale ci permette di tenere legati tutta una serie di elementi. Tornando al riportare un po' a casa, l'esperienza importante sono le pratiche di decolonizzazione. Due principali, poi magari lascio anche la parola a salvo perché non so quanto ho parlato, è l'idea che decolonizzare significa capire, forse è una banalità, non lo so, però che chi pensava che prima si risolve la questione di classe, poi si risolve la razza e poi il genere, ecco, si era completamente sbagliato, nel senso che non si possono pensare queste tre questioni in maniera distinta e non... Me l'ero studiato, ovviamente, non scherzando. E la questione della decolonizzazione... E questo e l'altra questione riguarda la modalità in cui, per me è stato un elemento molto interessante andare a vedere come i processi di decolonizzazione di persone e popolazioni che vivono all'interno di economie povere, cioè economie di sussistenza, economie marginali, che sono economie pienamente inserite nella dinamica capitalista, non è che siano al di fuori o siano... sono però, diciamo, processi di decolonizzazione e di politicizzazione che partono da due assunti. Il primo è che c'è il totale abbandono della logica della transizione e dello sviluppo, nel senso che non ci sarà un momento in cui si esce dal margine per essere integrati, al contrario, il margine si popola sempre di più e si allarga sempre di più. E l'altro è che nel momento in cui si politicizza, diciamo, la sussistenza, vuol dire che si politicizzano i bisogni, si politicizza e si iniziano a fare una serie di processi per cui si radicalizza la domanda su cosa si produce, come si produce e per cosa si produce e in che modalità questa forma di produzione si accompagnano, cercano di svincolarsi dalla strumentalizzazione del vivente di cui si parlava prima, che si accompagna sempre e comunque a una parte, diciamo, di logica mortifera. Grazie a tutti!